Shabbat shalom a tutti voi e benvenuti all'estratto della nostra porzione di Tora per i bambini, parte del programma Kadima che significa muovendoci avanti o muovendosi avanti. Andiamo avanti insieme con le nostre famiglie, le nostre mishpachot e con le nostre famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni che aderiscono sempre più al programma Kadima. In questo programma oggi raccontiamo la storia di Haiei Sarà. Haiei Sarà è la porzione di Tora di oggi e oggi vogliamo raccontare una storia molto bella che ha un lieto fine, che cambia la storia di tutto il mondo, di tutte le nazioni, da Israele al mondo intero. La volta scorsa abbiamo parlato di Abramo e poi riprenderemo anche la porzione di Tora che recupereremo insieme durante la settimana che non è stato possibile registrare e andiamo avanti con Haiei Sarà e questa è dedicata a tutte le donne, a tutte le madri, a tutte le madri fisiche, le madri spirituali per il cuore che abbiamo nella servire Hashem in spirito e verità, al di là delle difficoltà che arrivano attraverso le prove che Hashem ci porta davanti e che superiamo nella battaglia spirituale in vittoria con Lui, camminando con Lui. Amen. Quindi preghiamo prima di iniziare. Abinu Malchenu, nostro padre, nostro re, ti ringraziamo per essere qui ancora una volta oggi alla tua presenza, non prendiamo nulla per scontato, niente è scontato, niente da prendere per scontato, nella nostra vita tutto è un dono, tutto è un regalo che tu ci fai minuto per minuto nella nostra vita, tutto ciò che prendi, tutto ciò che dai è tuo e rimane tuo e noi non siamo nulla senza di te. Riempici Signore della tua verità, mostraci la tua gloria nella nostra vita come nella vita di coloro che sono nel nostro cuore, che tu ci hai messo davanti, le cui anime, i cui cuori, le cui menti e le cui vite sono state portate davanti a noi perché potessimo guidarli nel percorso che tu hai scelto per loro. Nel nome del Moschia Chieshua, Gesù il Messia, Amen. Ebbene, parliamo di Sara, la moglie di Abramo. La vita di Sara fu di ben 127 anni, una lunga vita diremmo oggi. Sara morì a Hevron, che è un paese bellissimo che vi invito a visitare. Si deve prenotare il tragitto con particolari autobus che partono proprio dalla città di Gerusalemme. Vi invito a visitare Hevron perché è proprio il primo punto e il punto più importante di Israele per il popolo di Israele per tutto il mondo perché segna proprio l'inizio della conquista del territorio e attraverso il patriarcato di Abraham e Sarai, che diventa Sarà, vediamo come l'intera nazione di Israele e le nazioni tutte sono cambiate. E bene, da Hevron, vediamo che Abramo, Abraham, il cui nome era stato cambiato da Hashem, in Abraham, bene, la pianse e comprò apposta una grotta dai Chittei e pagandola 400 cicli d'argento per seppellirla in modo degno. E questo luogo che si chiama la grotta di Machbelah divenne poi il luogo, diciamo, in cui Abraham destinò alla sepoltura la sua famiglia. Infatti in quel posto troverete tutti i patriarchi, quindi tutti coloro che hanno costituito la nostra eredità. E anche egli era ormai vecchio, anche Abraham era vecchio, desiderava che suo figlio Isaac, prima della sua morte, prendesse moglie. Questo era un desiderio che ogni padre ha per un proprio figlio, per una propria figlia, proprio per la progenie che era stata promessa ad Abramo. e chiamò il vecchio e fidato servo che provvedeva a tutto ciò che era importante per lui e gli disse, non voglio che mio figlio sposi una cananea. Vai nella terra dei miei padri a cercare una moglie per Isaac, che era Isacco. E gli rispose, ma se la ragazza non volesse seguirmi, farò tornare Isaac in Mesopotamia, la terra dalla quale sei uscito. Guardati bene dal riportare là mio figlio. Questo è un versetto molto importante in Bereshit, la Genesi, capitolo 24, versetto 6, perché segna proprio il desiderio di Abraham di poter avere una progenie secondo la sua tribù, quindi che fosse presa una donna dalla sua famiglia d'origine. Il Signore, Dio del cielo che mi ordinò di abbandonare la casa paterna, egli stesso ti manderà un segno. Bene, vediamo che in questo segno c'è una particolare tradizione ebraica. Vediamo in questa scena che Abramo ha pianto Sara e, secondo la tradizione ebraica, il lutto che è il lavelut, stretto per la perdita di un coniuge, di un congiunto, che può essere genitore, coniuge, figlio, fratello, dura sette giorni. Il defunto viene avvolto in un lenzuolo e sepolto nella terra. Amen. E qui vediamo quanto è importante fare cordoglio dei nostri cari. E' proprio quello che mancò a Moshe quando pianse per la propria sorella e non ebbe il tempo di vivere quella perdita in una maniera completa. E quella mancanza di mantenimento della tradizione della perdita e quindi della liturgia funebre dei sette giorni costò tanto sia a lui, la sua vita, cambiò totalmente, e che quella del popolo di Israele. Un altro particolare che abbiamo visto è che Avraham pagò per la grotta di Machpella perché voleva accertarsi che nulla fosse toccato di quella proprietà. E quanto è importante possedere la terra, acquistare il posto in cui viviamo e serviamo Hashem. E' importante perché è una forma fisica e letterale del possesso del territorio e dell'occupazione del territorio ed è fondamentale per la nostra vita. Quindi quando Hashem ci chiede di possedere la terra, deve essere fatto anche in forma fisica, quindi acquistare le terre, acquistare i territori, acquistare quello che sia lo spazio, l'edificio, la casa, perché possa essere poi utilizzato per servire Hashem in spirito e verità senza avere alcuna problematica di ordine legale, così come fu per Abramo. Il pagamento avvenne in cicli, quindi la moneta dell'epoca, che era appunto la moneta d'argento ebraica, che adesso è lo shekel, e oggi la moneta israeliana, lo sappiamo, è lo shekel Kadasha, Kadashi. E allora i cicli rappresentavano una grande ricchezza e quindi il pagamento di questa grotta, di questo possedimento, rassicurò Avraham e la sua progenie, tutti noi, di poter avere quella terra per il popolo di Israele, che nessuno avrebbe potuto mai toccare. Tornando alla storia appunto della ricerca della moglie per Isaac, Abramo assicurò, si rassicurò che il suo servo la cercasse con attenzione e il servo giurò ad Avraham che avrebbe fatto ciò che gli comandava, che quindi Hashem sarebbe stata ad indicare la ragazza giusta per Israq. E prese ben dieci cammelli, alcuni uomini in molti doni, e partì verso Haran, patria di Nacor, che era fratello di Avraham. Verso sera arrivò presso un pozzo, quello che vedete alle mie spalle che abbiamo fatto appunto con i bambini e poi vi dirò come lo potete fare in una maniera semplice a casa con i vostri figli. E verso sera arrivò presso questo pozzo nell'ora in cui le donne uscivano per attingere l'acqua e il fidato servo alzò e levò la sua preghiera ad Hashem e disse la ragazza alla quale dirò porgimi la tua brocca così che possa bere e mi risponderà bevi pure e darò da bere anche ai tuoi cammelli sarà quella che tu hai scelto per il tuo servo Israq. Bereshit capitolo 24 versetto 14 che vi invito a leggere con i vostri piccoli. e non aveva ancora finito di parlare che giunse con la brocca sulle spalle Rivka, che è Rebecca in ebraico, figlia di Betuel, figlio di Milka, moglie di Nacor, fratello di Avraham. In Bereshit capitolo 24 versetto 15. Bene, la ragazza era giovane, bellissima e egli le chiese da bere ed ella non solo diede l'acqua per il servo che l'aveva chiesto ma ne attinse anche per i suoi cammelli. Il servo allora capì che cosa? Capì il cuore di Rebecca, capì che questo era il segno del Signore, quindi non era un segno solamente basato sulla spiritualità della ragazza ma era un segno tangibile perché lei stava mostrando in maniera attiva Chesed, l'amore di Hashem, attraverso non solo servire lui ma servire i cammelli che aveva portato con sé. Immaginiamo all'epoca servire da un pozzo tutti questi cammelli deve essere stato diciamo qualche ora, deve essere durato. Quindi non è stata una cosa facile ma la ragazza era giovane, bellissima abbiamo detto e il servo allora capì che questo era proprio il segno di Hashem che era lei la ragazza giusta per Yitzchak. e le offrì quindi due braccialetti d'oro e un pendente le chiese ospitalità nella sua casa paterna per la notte. Pensate, uno sconosciuto chiede una ospitalità ad una ragazza nella casa paterna per la notte. Sappiamo, come abbiamo detto, che era proprio ed è parte integrante della tradizione ebraica all'ospitalità dello straniero e quindi questa tradizione viene proprio tramandata da Avraham e attraverso il modo di agire di questa ragazza il servo comprende ancora di più la sua disponibilità, la sua apertura al piano di Hashem nella sua vita, quindi allo straniero, a colui che viene e non conosciamo di cui magari potremmo avere paura, timore per la differenza, per il modo di agire. Ebbene Hashem ci prova tante volte proprio portandoci delle persone che non conosciamo ma che lui ci porta perché possiamo essere provati e quando siamo provati attraverso di lui sappiamo che abbiamo agito in maniera amorevole, secondo la sua volontà. La ragazza quindi corse dai genitori, così come Avraham corse per preparare quel buon cibo per gli ospiti inaspettati fuori della sua tenda, così questa donna corse e anche qui vediamo proprio la similarità nell'appartenenza, quando la Torah ripete delle parole sappiamo che Hashem ci vuole far comprendere che non solo siamo chiamati ad ospitare ma a correre verso quelli che sono coloro che ci devono aiutare ad ospitare nella maggiore diciamo facile soluzione i nostri ospiti che non sono stati invitati ma sono sconosciuti e questo è fondamentale perché quando noi apriamo la porta ad una persona che ci chiede che non conosciamo sappiamo che Hashem ha guidato ogni cosa che se è da lui porterà certamente benedizione e quando noi prepariamo lo Shabbat preghiamo sempre che Hashem ci possa portare le persone che egli vuole che lui ha scelto per noi perché sappiamo che nella sua volontà ogni cosa anche le cose più strane hanno un senso e dobbiamo insegnarlo anche ai nostri figli amè questa è una cosa importante bene il servo allora capì che questo era il segno del Signore le offrì questi due braccialetti d'oro e un pendente e le chiese ospitalità nella sua casa paterna per la notte la ragazza corse dai genitori del fratello Lavan il quale visti i ricchi doni poi vedremo più in là il cuore di Lavan andò alla fonte ad accogliere il viandante offrendo ospitalità a lui ai suoi compagni ai suoi cammelli quindi Lavan una volta visti diciamo i ricchi doni che aveva trasportato il servo di Abraham reagì con una certa ospitalità e quando gli fu presentato il cibo il servo disse non mangerò finché non avrò detto ciò che ho da dire ebbene molte volte ci capita nella nostra vita di pensare che coloro che noi stiamo ospitando abbiano bisogno di noi perché Hashem ci porta sempre delle persone che hanno certamente come tutti noi dei bisogni ma tanto tante volte non è così è proprio per il motivo opposto è perché noi abbiamo bisogno di comprendere qualcosa nel nostro cuore e quando ce le porta per essere ospiti nella nostra casa capiremo qual è il livello di amore il livello di chesed che Hashem ci chiede di avere nei confronti di coloro che sono a noi sconosciuti questo è un valore inestimabile è una storia importante per ognuno di noi ebbene quindi il servo disse che lui non avrebbe mangiato e che è molto raro non avrebbe mangiato finché non avrebbe detto ciò che aveva da dire a questo punto raccontò il giuramento fatto ad Abraham quindi si presentò disse di chi era il servo e la preghiera che aveva posto al Signore la certezza che Rivka la loro figlia fosse la prescelta immaginate una coppia di genitori che improvvisamente a cui improvvisamente viene detto che la propria figlia è stata prescelta dal Signore per un lungo viaggio molto lontano da dove sono per essere sposa a qualcuno che loro non conoscono assolutamente e tranne che attraverso la parentela però ricordiamo che erano diversi anni che si erano separati Abraham e Lavan e quindi Lavan e Betuel risposero questa cosa proviene dall'Eterno quindi mostrarono una fede che è al di là della comprensione umana noi non possiamo dirti nulla né di bene né di male ecco Rivka è davanti a te prendila e vai e diventi moglie del figlio del tuo padrone come ha detto l'Eterno e questo è in Bereshit capitolo 24 versetti 50 e 51 il servo diede ancora molti regali il fratello e la madre avrebbero voluto trattenere con sé ancora per un po' di tempo Rivka ma ella stessa fu d'accordo a partire subito portando con sé la sua nutrice e le sue ancelle i suoi familiari allora la benedissero augurandole numerosa e forte discendenza Yitzhak era uscito da solo fra i campi sul far della sera e qui vediamo logicamente c'è stato un viaggio di Rivka che arriva finalmente nel territorio in cui era Abraham e Yitzhak e Yitzhak è descritto così sul far della sera immaginiamo questo meraviglioso tramonto come a Shabbat e nel Talmud si dice che a Yitzhak si deve l'istituzione infatti della preghiera pomeridiana del Mingha poiché questo episodio avvenne all'ora del tramonto e questa bellissima scena in cui Rivka appare appunto agli occhi di Yitzhak come una stella nel tramonto mostrando la sua bellezza mentre lui ritorna dai campi dopo aver lavorato immaginiamo anche Yitzhak come fosse ansioso di poter vedere chi fosse la sua metà e alzò gli occhi e vide dei cammelli e questo fu diciamo uno spunto per poter pensare che fosse arrivato il momento di una risposta da parte di Hashem per la sua futura moglie ebbene questi cammelli avanzavano e Rivka pure alzò gli occhi quindi vediamo come quando nella Torah Hashem ci parla di alzare gli occhi e noi lo ripetiamo ogni giorno nelle nostre preghiere giornaliere anche allo Shabbat quando Hashem ci chiede di alzare gli occhi e ci chiede di elevare il nostro sguardo a lui ce lo chiede in forma di padre perché quando noi eleviamo lo sguardo a lui allora vediamo le sue risposte e lui non ci vuole spiritualmente giù magari sentendoci che non siamo abbastanza che non siamo in grado no Hashem ha sempre una risposta alle nostre preghiere e quando noi preghiamo e alziamo gli occhi a lui sappiamo che lui è con noi e ci risponde sempre e ascolta tutte le nostre preghiere così come fece con Yitzchak che portò Rivka che alzò gli occhi e vide Yitzchak e saltò giù dal cammello immagino questa giovane bellissima ragazza che era piena di energia che correva per appunto ospitare il servo di Abraham per incontrare il suo sposo e questa è la forza del Chesed dell'amore che si mostra nella potenza che Hashem ci dà che non ha filtri non ha mezze parole che non deve andare piano perché deve mostrare la sua potenza e nell'innamoramento che Hashem ci dona per i nostri futuri mariti e compagni di vita è quello che mostriamo poi ogni giorno è nel correre verso di loro nel nostro cuore mostrando l'amore che non è un amore terreno un amore che viene da Hashem e che solo lui ci può mostrare ogni giorno e domandò chi è quell'uomo che viene nella campagna incontro a noi ed il servo è il mio padrone quindi lei già stava correndo e questo mi colpisce perché aveva una fede incredibile questa donna Rivka che già correva incontro al suo sposo come noi siamo chiamati a correre in braccio proprio nelle braccia di il nostro sposo il Moschia Jeshua Gesù il Messia è così che Hashem ci vuole pieno di amore del suo amore per il suo Messia suo figlio Jeshua Gesù il Messia e ella prese il velo e si coprì perché sappiamo che di fronte al promesso sposo le spose ebree si coprono il volto durante la cerimonia nuziale rimane appunto coperta fino ad una fase finale tranne quando si beve appunto dalla coppa si solleva leggermente il velo e poi finalmente il velo può essere sollevato alla fine della cerimonia nuziale ma proprio per mostrare la sua sottomissione e devozione al prossimo futuro marito Rivka mette il velo davanti al suo volto e vediamo che Yitzhak sposò Rivka appunto e l'amò e si consolò del dolore per la morte di sua madre Sara e tante volte nella vita Hashem ci insegna che ogni dolore che noi viviamo viene poi ricompensato nel nostro cuore attraverso un amore più forte che il suo che ci riempie di un amore che nessun uomo o donna ci possa dare ma che al tempo giusto quando siamo pronti per poter incontrare una nuova persona nella nostra vita e poter essere due in uno uno in Mosheek e possiamo finalmente ecco essere sposi spose dei nostri futuri coniugi come fu per Yitzhak e Sarà e Rivka scusate quindi passò del tempo e anche Avraham si risposò con una donna di nome Keturah e da cui ebbe altri sei figli wow i quali a loro volta ebbero altri figli quindi vediamo come i figli di Avraham oltre Isacco da cui proviene la discendenza e la benedizione ebbe poi altri sei figli bene vediamo un po' dopo aver raccontato questa bellissima storia qual è il filo che conduce tutte queste immagini che abbiamo avuto davanti e sappiamo che i fatti sono tanti che sono raccontati in questa porzione di Torah e vi quindi suggerisco di giocare un po' al filo del racconto quindi a collegare quelle che sono le parti della storia della porzione di Torah di questa settimana e i fatti sono certamente la morte di Sarà che ha segnato l'inizio di questa Torah la porzione di Torah la vecchiaia di Avraham il viaggio del servo il viaggio di Rivka quindi vediamo come dopo la morte quindi la fine di un percorso di vita di Sara e la vecchiaia di Avraham verso la fine avviene il viaggio quindi rinizia un nuovo percorso come noi lo stiamo riniziando un nuovo percorso con Hashem in questo tempo di grande vaglio e di grande potatura che è questa stagione e le conseguenze appunto sono tante c'è l'incontro per esempio con Rivka da parte del servo la ricerca di una sposa per Itzhak l'incontro e nozze di Rivka con Itzhak e la trattativa e l'acquisto di una grotta bene potete giocare insieme ai vostri figli se lo richiedete in queste attività e quindi collegare connettere i vari fatti con le conseguenze perché ogni fatto provoca una conseguenza e vi do uno spunto come la morte di Sara abbia portato Avraham a conquistare la terra quindi a dare una trattativa e ad acquistare una grotta che poi sarebbe stata usata ad Ebron una cappella per tutti i patriarchi che ancora oggi ogni ebreo va a visitare non solo c'è una bellissima comunità ebraica ad Ebron e vi invito a visitarla e anche molte coppie ebrei vanno proprio non solo a sposarsi ad Ebron ma anche a benedire fare Britmillà ai propri figli e anche tante altre celebrazioni che possono essere appunto cerimonie celebrate a Ebron bene i nostri maestri vediamo cosa dicono che per tutto il tempo in cui Sara disse una nube quale segno di protezione divina avvolgeva la sua tenda e questo sappiamo è qualcosa che appartiene alla Torah orale in cui noi non crediamo lo riportiamo perché tutto ciò che noi studiamo anche in parallelo riporta alla attesa e promessa messianica attraverso le profezie che si sono adempiute nel Brit Hadashah nuovo patto nuovo testamento dal vecchio e Canak quindi avvolgeva la sua tenda questa nube di protezione divina e quando Sara morì la nube scomparve un po' come quell'acqua che Miriam la fonte di acqua che Miriam aveva avuto come tradizione appunto ebraica dice ma anche questo nella Torah scritta c'è che scomparve alla morte di Miriam e questo poi causò quello che fu un incidente nella vita di Moshe che si arrabbiò con il popolo di Israele e reagì in una maniera sbagliata disobbedendo ad Hashem e quindi segnando la sua vita per sempre non potendo più accedere alla terra di Israele ma solo poteva guardarla da lontano e finché Sara disse le porte della sua tenda erano spalancate per ricevere gli ospiti e questa è una tradizione abramitica che è molto importante perché nella tradizione ebraica questa tenda che era la tenda di Abraham e Sara era sempre aperta su tutti e quattro i lati in maniera tale da poter da ogni lato poter ospitare le persone che venivano a visitare e questo fa parte della tradizione appunto ebraica in particolar modo nella vita di Abramo segna anche che la sua tenda era un po' come una zucca non era ma una zucca particolare perché appunto non aveva la copertura laterale di minimo due pareti e mezzo come appunto obbliga diciamo la legge orale ma non aveva altro che in sostanza la parte superiore quindi il tetto un po' come chuppa quindi la chuppa come la tenda di Abraham e Sara costituiva la massima espressione di chesed di amore verso Hashem e verso gli altri quindi in verticale e in orizzontale questo è un tipo di profezia messianica che già presentava il messia in lui l'amore del messia era in Abramo e in Sara e come sotto una coppa essi erano sposati con Hashem bene quindi quando morì cosa avvenne che queste porte della tenda si richiusero e si riaprirono appena arrivò Rivka e questo segnò una riapertura di quello che era il cuore di Abraham di Isaac della sua discendenza perché dal lutto come dice il salmo noi impariamo che il Signore trasforma il nostro cuore dalla sofferenza ci porta a danzare a danzare per lui ad adorarlo in spirito e verità e a passare da quel lutto da quella sofferenza da quella crisi da quella perdita che nessuno ci può giudicare e nessuno ci può dire quando siamo pronti per affrontare la vita ma al tempo giusto quando siamo pronti allora Hashem riapre quelle porte di quella tenda di quel cuore che da afflitto da dolorante si riapre alla vita alla nuova vita alla redenzione nel Moshiach che ci è stata promessa per cui già siamo suoi e che siamo chiamati a vivere sapendo che i nostri cari se hanno fatto una scelta importante nella loro vita che è quella della redenzione nel Moshiach sono già con lui e sappiamo che alla fine dei tempi tutto ciò avverrà in maniera perfetta e spesso ci sono persone che mi chiedono anche se è importante pregare per i propri cari bene è fondamentale pregare per i nostri cari perché sappiamo che tutti coloro che sono morti saranno risorti ci saranno quelli che sono già stati redenti nel Moshiach che andranno con lui e ci saranno quelli che dovranno essere giudicati così come tutti gli altri ma che nel giudizio saranno chiamati ad andare nella parte opposta ebbene è importante pregare perché in quella resurrezione possano ricevere un nuovo giudizio una nuova possibilità e lo dico per tutti coloro che hanno perso dei cari che non erano redenti nel Moshiach Amen quindi preghiamo perché nella resurrezione queste persone possano ricevere la giustizia del Moshiach al suo ritorno e questa è una speranza che nessuno ci può togliere e che solo Hashem giudicherà al suo trono Alcuni pensano che Keturah la donna che Avraham sposò dopo la morte di Sarà fosse Agar e i figli che nacquero da questo matrimonio divennero però tutti idolatri Midian ad esempio uno di essi ebbe un figlio che si chiamava Efer Efer conquistò la Libia ad esempio con il suo esercito e prese possesso di tutta la regione l'Africa prende infatti nome proprio da lui e una curiosità è che Eliezer che era stato a lungo presso Avraham nel cercare una sposa per Isaac non cercava solo la bellezza fisica ma la semplicità l'operosità e la gentilezza d'animo e l'ospitalità e Rivka col suo comportamento come abbiamo detto prima dimostrò subito di possedere tutte queste qualità ed era quindi una scelta da parte di Hashem per Isaac Abbiamo delle bellissime attività che vogliamo condividere per coloro che le richiedono parti sempre del magazine The Vash che appunto tradusciamo anche in italiano oltre che in inglese ed è un magazine che viene condiviso con tutti coloro che ne fanno richiesta nella loro lingua e completa il racconto della Torah di oggi con attività carine come quello che vedete alle mie spalle che è stato fatto semplicemente come lavoretto dei bambini e che mostra appunto sia il pozzo dove si sono incontrati il servo Eliezer e appunto Rivka ed è stato fatto con bastoncini appunto e cartone pressato ma può essere fatto in maniera anche ancora più semplice con carta colorata e poi c'è il cesto appunto dei doni che veniva dato dal servo Eliezer alla famiglia di Rivka quindi alla Ban e alla sua moglie e abbiamo poi diverse attività per diverse età che vi invitiamo a richiedere via mail e che potete appunto svolgere durante il giorno di Shabbat insieme alla vostra famiglia che vi fanno conoscere meglio anche il glossario quindi le parole che sono contenute nella Torah di questa settimana che sono parole ebraiche come ad esempio la Avelut che abbiamo detto è proprio il lutto è il lutto stretto che dura sette giorni secondo la tradizione ebraica il Keriah la lacerazione delle vesti per lutto che ricordiamo appunto come la lacerazione del velo che si ebbe alla morte del Mosciac sulla croce di esecuzione romana che fu lacerato perché appunto Hashem lacerò il suo velo così fece con il velo del tabernacolo quindi il luogo santissimo fu aperto attraverso quella lacerazione secondo la tradizione ebraica e si chiama appunto Keriah poi c'è lo Shiva che costituisce la prima settimana i primi sette giorni di lutto Avelim le persone in luto coloro che fanno cordoio e Rechitzah che è il lavaggio del corpo di un defunto che è quello che fu svolto secondo la tradizione ebraica Al-Mushia Chieshua Gesù il Messia proprio dopo essere stato deposto nel sepolcro da parte di Miriam e Maria Maddalena e Maria di Betania poi c'è il Tachirim scusate Tachirchim che è il lenzuolo in cui viene avvolto il corpo di un defunto così come fu secondo la tradizione ebraica avvolto il corpo del Moshe Chieshua Gesù il Messia all'interno del sepolcro e infine il Kadish che è la santificazione ossia la preghiera che noi usiamo pregare per coloro che appunto richiedono una preghiera di benedizione di lode al Signore recitata anche da Yavelim e ci sono delle attività molto carine come il gioco semplicissimo di cose persone animali e luoghi in cui appunto si può giustapporre i vari personaggi della storia e secondo le lettere appunto ricevute giocando a questa attività potete appunto ricuscire un po' la storia che abbiamo visto insieme oggi e anche corrispondere a ogni personaggio ad esempio Abraham che cosa era corrispondente la grotta o il pozzo quindi anche per giocare in maniera più attiva nella memoria dei nostri figli e perché no anche nella nostra ne abbiamo bisogno certamente quindi vi invito a scriverci via mail utilizzando la mail che si trova sotto questo video e a richiedere appunto il magazine The Vash richiediamo una minima offerta che potete appunto fare semplicemente utilizzando il Paypal che è la forma più semplice che abbiamo trovato per poter accettare le offerte di coloro che appunto partecipano al sostegno del magazine The Vash che stiamo appunto iniziando a tradurre sia in italiano che in inglese e prima di finire voglio porre delle domande anche ai bambini che è importante per la verifica di ciò che noi abbiamo imparato oggi e la prima domanda è quanti anni aveva Sara quando morì quindi potete ritornare indietro su questo video e cercare oppure cercare di ricordare attraverso la scrittura che ho vi ho dato prima di riferimento la seconda domanda è dove si trova la grotta di Maccappella la terza è da chi comprò la grotta Abraham la quarta è che cos'è il ciclo la quinta è di chi era figlia Rivka e l'ultima in quale momento della giornata si incontrano Yitzhak e Rivka bene chi risponde a tutte queste domande avrà certamente una copia di questa torra porzione editora di questa settimana gratuitamente attraverso la la nostra email su richiesta via email e se ad esempio avete desiderio di approfondire e quindi di far parte dei nostri studi del programma Cadima ma anche desiderate iscrivere i vostri bambini alla scuola Ederma Alba Italia potete sempre partecipare e anche specificando i giorni in cui siete disponibili della settimana e faremo in modo faremo del nostro meglio per accontentare le richieste delle singole persone perché sappiamo che sono già obberati di tanto lavoro durante la scuola quindi è importante anche avere del tempo da dedicare ad Hashem ci sono appunto delle attività che poi possono svolgere anche da sole in maniera autonoma proprio per verificare ciò che hanno imparato e prima di finire voglio pregare insieme a voi Avinu Malchenu nostro padre nostro re ti ringrazio per questo tempo che ci hai donato insieme accresci il desiderio di servirti in coloro che sono ancora piccoli e all'interno della loro famiglia rappresentano una luce per te desiderano realmente conoscere più di te Signore benedicili in ogni forma e fa che possano essere delle guide vere e proprie guide spirituali per la loro generazione non solo anche per i loro genitori che hanno perso la speranza per i loro nonni per le generazioni passate e future nel nome di Gesù il Messia Amen benedizioni e shabbat shalom a tutti voi grazie grazie a tutti Grazie a tutti.